Un saluto dalla redazione del GR Asin, studio Marco Paganelli. Ultimo saluto a George Floyd, il 46enne ucciso negli Stati Uniti a Minneapolis durante il suo arresto. Molte persone hanno partecipato nelle ultime ore alla commemorazione nel santuario North Central University della città. L'assalma dell'uomo viene portata nella Carolina del Nord, dove era nato, e in Texas, zona in cui aveva trascorso buona parte della sua vita. Diminuisce intanto l'intensità delle manifestazioni violente di protesta negli USA contro la polizia americana e il presidente Donald Trump per le modalità che hanno portato al decesso dell'afro americano. Veniamo in Italia, la sindaca Virginia Raggi ripristina la legalità, ma i membri del clan la minacciano. Il consigliere capitolino Paolo Ferrara commenta così il post di un account che, riferito alla prima cittadina di Roma, recita vuoi mettere in strada 20 famiglie italiane. L'attenzione mediatica e la scorta spariranno tra un anno e tu tornerai ad essere una nullità, ma il tuo nome resterà scritto nel libro nero dei camerati che hanno una buona memoria. Apertura positiva per Piazza Affari, l'indice Fuzzi Mib della Borsa di Milano ha avviato le contrattazioni odierne in rialzo dell'1,88% a 20.002 punti. E per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi.